Dai ragazzi, siete pronti per festeggiare i nonni? Un attimo, dobbiamo ancora salutare i bambini. Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi stiamo festeggiando la festa dei nonni. Aspettiamo un po'. Buon anno nonni, tanti auguri! Sìììììììì! Buone feste nonni! ragazzi vi state divertendo le buon anno nonni tanti auguri tanti auguri tanti auguri tanti auguri tanti auguri bambini io bambini io ho fatto un lavoretto con un cuoricino si che bello ci stiamo divertendo che bello che bello che bello ci stiamo divertendo che bello ci stiamo divertendo tantissimo bambini vi siete divertiti lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao